buongiorno a tutti con piacere presento il nostro capitolo del professor gherlone e mio professor gherlone direttore del dipartimento di odontoiatria dell'ospedale san raffaele ed io collaboro insomma con lui da ormai da venticinque anni il nostro capitolo si intitola laser smile design applicabilità della tecnologia laser digitale nelle riabilitazioni protesiche quindi di che cosa che cosa descriviamo in questo capitolo descriviamo l'utilizzo di nuove tecnologie anche se ormai nuove vuol dire dieci quindici anni di applicabilità clinica che sono le tecnologie digitali utilizzate sia nella fase diagnostica che nella fase di rilievo di impronta e le tecnologie laser per tecnologie laser si intende prevalentemente l'utilizzo del laser a diodo e del laser al neodimio che sono macchinari che si utilizzano nella trattamento della chirurgia gengivale estetica e soprattutto del rilievo delle impronte in protesi estetica per quando riguarda invece l'ambito digitale noi sfruttiamo la metodica di smile design quindi di progettazione disegno del sorriso digitale tramite l'uso di fotografie specifiche del volto del paziente per il disegno del nuovo sorriso inoltre utilizzando gli scanner ottici riusciamo a rilevare delle impronte senza l'uso di materiale e attraverso l'utilizzo di software CAD quindi portando a livello 3D la nostra progettazione riusciamo a produrre fasi di lavoro differenti dal mock-up quindi la test iniziale i provvisori e i manufatti definitivi tutto questo con il preciso scopo di essere estremamente predecibili precisi auttraumatici per il nostro paziente e di riuscire a far capire sempre molto bene quali saranno le fasi di lavoro del paziente e soprattutto sapere dall'inizio quale sarà il risultato finale Grazie a tutti